Ciao a tutti, per anteprima vittoria eccoci a presentare il terzo capitolo della saga degli Hunger Games. Ritroviamo la protagonista Katniss Everdeen al suo distretto, il distretto 13, che l'ha vista protagonista nei due precedenti capitoli, a guidare la rivolta, la rivolta che prova a veicolare con la sua immagine da eroina tutti gli altri distretti insieme, uniti per lo scontro finale contro la capitale e il presidente Snow, che sta cercando invece di utilizzare la faccia pulita di Pita per cercare di sedare la rivolta. Ovviamente, il protagonista come sempre indiscussa è Jennifer Lawrence, in questa saga, la saga tratta dai romanzi di Susan Collins, dove assolutamente viene fuori il motivo conduttore, che è sempre quello, ovvero ciò che viene presentato dai media è assolutamente molto molto diverso dalla realtà. Ebbene, al cinema, al cinema Vittoria Locri, ritroviamo i protagonisti di sempre, i mostri sacri. Oltre alla già citata Jennifer Lawrence, non c'è inquadratura, non c'è azione, non c'è momento anche toccante dove lei non sia al centro dell'attenzione di Frances Lawrence, il regista di questo terzo capitolo. Insieme a lei, i mostri sacri, Donald Sutherland, Julianne Moore, Woody Harrelson e Stanley Tucci e poi, da brivido, l'ultima interpretazione, neanche conclusa, non ha concluso le riprese, di Philip Seymour Hoffman prima della sua tragica dipartita. Alcine Vittoria Locri, da giovedì 27 novembre, Sala Blu, ore 17, 19.30 e 22, arriva Hunger Games, il canto della rivolta, parte prima. Per essere sempre aggiornato sulle novità del Cine Vittoria, puoi seguire ovviamente la pagina Facebook oppure il sito www.cinevittoria.com Per essere aggiornato sulle novità di Carletto, seguici sulla pagina di Facebook o sul profilo YouTube Carletto Romeo. Ciao a tutti! Ciao a tutti!